In occasione di una sua visita ai vivai vannucci di Pistoia, l'europarlamentare Paolo De Castro, due volte ministro delle politiche agricole, prima nel governo D'Alema e poi nel governo Prodi, ha rilasciato un'ampia intervista al direttore di TVL Luigi Bardelli, trattando i temi dell'agricoltura, dal vivaismo al settore agroalimentare. La visita di Paolo De Castro per me non è assolutamente una sorpresa, perché ci sentiamo spesso per le varie argomentazioni e soprattutto per l'amicizia che ho con lui da 20 anni. e oggi si trova qui a Pistoia per il Pistoia Green Forum e abbiamo fissato questo incontro in azienda per parlare, soprattutto per visitare l'azienda che lui non vede da diversi anni e poi perché ci sono tanti argomenti su cui confrontarsi, che lui conosce molto bene, in primis pratiche sleali, ma tanti altri argomenti. Tra gli argomenti trattati, quelli della prospettiva di riduzione dei fitofarmaci in agricoltura. L'azienda dei fitofarmaci in Italia ha ridotto in maniera significativa sia in termini quantitativi, proprio di quintali di uso di prodotto chimico, sia in termini di principi attivi più pericolosi per l'ambiente e per la salute. Altro tema affrontato riguarda le prospettive dell'agricoltura tradizionale del settore agroalimentare. L'Europa è il principale continente al mondo come dimensione del settore agroalimentare. Siamo il più grande esportatore, cioè gli Stati Uniti per farci un'idea. Noi abbiamo tutti l'idea, gli Stati Uniti, grande esportatore, non tradizionale. Ecco, noi facciamo molto di più degli Stati Uniti. L'Europa l'anno scorso ha esportato 200 miliardi di euro e gli Stati Uniti sono fermi a 130. Quindi noi siamo diventati veramente una potenza enorme. Perché? Perché noi facciamo qualità, facciamo prodotti finiti, facciamo vino, facciamo formaggi, facciamo prosciutti, facciamo tante produzioni che oggi vengono richieste da tutto il mondo, quando altri paesi del mondo fanno più commodity, fanno più materie prime.